Mister, prime ore, prime impressioni, primi contatti con questa realtà? Grandissimo entusiasmo e grandissima voglia di cominciare, anche se partiamo un po' in ritardo per le vicissitudini dei ripescaggi, però buona impressione dai, buona impressione. Quali sono le prossime mosse che metterà in campo, che prospettive ci sono per i prossimi giorni? Adesso dobbiamo cercare di completare la rosa piano piano, anche perché col problema dei moduli è un po' un problema, poi cercare di partire per il ritiro che è la cosa più importante e poi quando saremo in ritiro piano piano inizieremo a mettere le basi per il lavoro. Mix di esperienza, mix di gioventù, insomma quali sono le priorità che avete in questo momento? Vogliamo fare una squadra mista, nel senso tra giovani e tra virgolette vecchi, ripeto i giovani ti possono dare entusiasmo, corsa, voglia di fare, voglia di arrivare e i vecchi ti possono dare consapevolezza, forza mentale in certi momenti della partita e devono aiutare a crescere i giovani perché è fondamentale che poi i giovani crescano. Chi viene qua, quali sono le caratteristiche che devono avere, intrinseche, insomma su che cosa ha lavorato? Ma ripeto, secondo me adesso è una fase che si è usata molto, però l'atteggiamento penso che poi sia quello che ti permette di poter fare tutto, se non c'è l'atteggiamento giusto nei confronti del lavoro, nel prepararsi la partita, nel prepararsi del lavoro settimanale, nel voler stare insieme ai giocatori in una certa maniera, diventa importante, quando c'è quell'atteggiamento secondo me poi si può fare tutto.